eccoci qua allora vi vado a presentare l'ultimo monopattino che ho costruito sono partito da da questo l'uber 300 pregi nessuno difetti tantissimi penso che 300 sia solamente il numero dei secondi che riesce a durare prima di scaricarsi velocità massima 18 km orari e poi non ha assolutamente potenza e ottenuto praticamente solamente il telaio l'ho dovuto anche modificare un po il telaio e da questo punto di partenza sono arrivato a realizzare questo monopattino questo è un vero monopattino qui monta motore 1000 watt e batteria litio altrettanto da altrettanto da 1000 watt ottenuto aperto questo qua apposta per farvi vedere praticamente c'è la batteria che è bene coinventata qui con questa protezione poi tutti i collegamenti li ho fatti ovviamente ho messo anche le fascette colorate così da facilitare per le prossime volte se dovessi smontarlo il controller è la sotto e poi di qua c'è tutto il sistema di trasmissione con un motore appunto da 1000 watt catena 8 mm rapportatura 11 44 con con praticamente anche questo leveraggio che ho fatto apposta per tenere tendi catena per tenerla sempre ben in appoggio su tutti i denti carterino fatto con la stampante e luce posteriore si accende si spegne da qui perché durante il giorno non serve risparmiare sulla batteria manca lo spinotto qui devo finire di fare lo spinotto per caricare poi fare gli adesivi belli questi qua sono solamente un prototipo per vedere un po come come ci stanno inoltre ho modificato la pinza come potete vedere questa originale brutta 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 a filo normale questa qua invece è idraulica eccolo qua c'è un pistuncino è la xtec 100 hb 100 c'è un pistuncino idraulico che va a chiudere tutte e due le pinze e le pastiglie scusate e ovviamente per adattarlo ho dovuto mettere un distanziale in alluminio là dentro per portare il disco più in fuori perché qua siamo veramente vicini alla ruota e e poi ho realizzato anche questo bracket questo supporto qui in alluminio che praticamente sì per l'alloggio del sagomato bene per l'alloggio della della pinza che altro dire ovviamente anche il supporto per la batteria è stato ingrandito per far ospitare appunto le batterie da 1000 watt e poi per quanto riguarda invece i comandi abbiamo un bel campanellino e e poi anche abbiamo abbiamo messo questo qua bello rosso mi piace tanto il teschio che è una cassa bluetooth molto carina e non ho potuto utilizzare i led praticamente per lo status della batteria quindi ho implementato con questo display che si attiva con l'accensione del monopattino e mi indica appunto le percentuali rimanente e poi la tensione che è veramente da paura 49,4 volte c'è da considerare che quando è completamente carico sono 55 volte al limite di prendere le scosse quelle però per avere un po di potenza insomma bisogna andare su anche quelle a tensione per avere la corrente più basse e poi qua ho fatto il supportino insomma per quando si va a fare la spesa molto bello mi piace ecco questo qua è il monopattino finito molto racing molto performante anche come autonomia stimo circa sui 12 barra 15 chilometri poi dipende sempre il tipo di strada che si va a percorrere ovviamente qua la gomma è per uso prettamente sterrato e davanti invece per uso pista quindi c'è l'imbarazzo della scelta qui si mette il carterino eccolo qua la pedana essere fisso con le viti e siamo a posto ecco questo è il monopattino che ho fatto questo mese partendo da questo qua ah sì ovviamente qui il il motore non si vede perché piccolino e là dentro è da 250 watt piccolino là dentro qua non ci stavo più ho dovuto spostare tutto fuori con il suo bel supporto rinforzato eccetera eccetera e bene ecco questo è il mio ultimo lavoretto fatto insomma sono molto contento ciao ciao